Una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per lavori è chiuso il tratto tra Pian del Boglio e Aglio in direzione Roma. Per incidente code in uscita a Calenzano. Sulla A11 in direzione Firenze, code tra Sesto e Firenze per Itola, code a tratti tra Prato Ovest e il Bivio per la A1. Sulla Afipili tra Montelupo ed Empoli Est chiusa la corsia di sorpasso in entrambe le direzioni con chiusura dello svincolo di Empoli Est in ingresso in direzione Firenze. Per questo motivo un chilometro di coda tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze e tra Montelupo ed Empoli Est in direzione Mare. Per incidente rallentamenti tra Pisa Centro e Pisa Aeroporto. Moversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!